Doveva svolgersi in lungomare ma gli organizzatori hanno cambiato programma per il primo evento dedicato alla casa che si svolgerà a settembre nella città della Fortuna. Da venerdì 16 a domenica 18, 30 espositori saranno al pincio di Fano per offrire al pubblico tecniche innovative di recupero e ristrutturazione dell'immobile, soluzioni per l'arredo, per il risparmio energetico e materiali all'avanguardia per l'isolamento degli edifici. L'obiettivo è rilanciare un settore molto importante per la nostra economia e al momento in crisi, in crisi non solo economica ma anche culturale. Ci ritroviamo con chi fa casa e che non sa come dire che pesci prendere. Si ritrova al bombardamento di informazioni tramite internet, tramite tutti i sistemi di comunicazione che dicono tutto il contrario di tutto. Tramite questa manifestazione riusciamo a mettere in contatto gli addetti ai lavori, con chi deve far casa, che può avere delle risposte serie e precise, per di più dagli addetti ai lavori del nostro territorio, che quindi possono farsi conoscere, possono anche rilanciare un settore in maniera più agevole. Perché è importante l'innovazione? L'innovazione è importante perché è il motore dell'economia e ci dà la possibilità alle imprese del territorio di poter trovare nuovi spunti. Con il patrocinio del Comune di Fano e due assessorati, quello alle attività economiche e produttive e quello alla cultura, l'evento ha il sostegno dei professionisti e degli ordini professionali, che saranno direttamente coinvolti nell'evento di settembre in numerose iniziative. È previsto infatti un ricco programma di incontri e convegni che toccheranno varie tematiche, dall'innovazione al risparmio energetico, dalla sicurezza al benessere personale. Dunque una vetrina per le aziende e al tempo stesso una diffusione di conoscenze per chi vuole rendere la propria casa moderna e funzionale.